Nessuno della Lega e di Fratelli d'Italia voterà mai il DDL Zan. Non si capisce perché una questione così cristallina, semplice e lampante non debba stoppare immediatamente qualsiasi discussione sull'eventuale ricerca di voti e di mediazione. Voteranno il DDL Zan alcuni senatori di Forza Italia, qualcuno l'ha già anche pubblicamente dichiarato, si è esposto, e poco altro da quelle parti. Poi ci sono quelli di Italia Vile che insistono nel dire che mancano i voti. Sì, i loro. Per capire che tipo di gente stiamo parlando, vale la pena riprendere la folle dichiarazione di ieri, ad esempio, di Maria Rita Castellani, garante per l'infanzia dell'Umbria. Occhio, si tratta di una dichiarazione che Castellani ha inviato a tutti gli organi di stampa, non una discussione così tra amici giù al bar, sentite bene, il concetto di identità cambia, non è più quello antropologico che conosciamo da sempre e che distingue persona da persona a ragione di evidenze biologiche, ma diventerà qualcosa che io, cittadino, posso decidere arbitrariamente secondo la percezione del momento. Di conseguenza, ogni desiderio sarà considerato un bisogno e il bisogno un diritto. E poi, a partire da queste considerazioni preliminari, si deduce che il sesso biologico non avrà più importanza dal punto di vista sociale, perché conterà soprattutto il sesso culturale, cioè quello percepito. Come d'altra parte, si potrà scegliere, sentite bene, l'orientamento sessuale verso cose, animali e o persone di ogni genere, e perché no, anche di ogni età, fino al punto che la poligamia come l'incesto non saranno più un tabù, ma libertà legittima. Insomma, la garante per l'infanzia dell'Umbria dice che con la legge Zan si potrà fare sesso con animali, bambini e cose. Sembra incredibile, ma è così. Ma non è tutto. Il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, e il senatore Simone Pillon, che è responsabile delle politiche familiari del partito in Umbria, si sono schierati dalla parte di Castellani. In fondo, se ci pensate, Castellani non ha detto niente di diverso rispetto a quello che dicono solitamente Meloni e Salvini. L'unica differenza è che ha calcato un poco di più la mano, come potrebbe fare ad esempio un Salvini, che ne so, al secondo moito. Cioè, nessun cenno di discordia, ad esempio, da parte di Salvini e Meloni, loro due in persona. Questi sono questa cosa qui. Quelli vogliono trattare con questi qui. E davvero vorrebbero convincerci che alla fine cederanno al genio politico di Renzi. E noi sono giorni che ne scriviamo. Fate voi, avanti così. Ah, vi metto qui sotto il link per abbonarvi a Left. Potete farlo cartaceo, così ve lo ricevete a casa, o digitale. Se vi abbonate digitalmente, tra l'altro, vi leggete il giornale, già dal giovedì. Buon giungite. Grazie. Grazie. Grazie.